assumete sempre le vostre precauzioni perché i gerbi potrebbero contagiare e la viola domanella la se fare e voglio fare una cantata alla Verulana, voglio sentire la mia voce in zona e voglio sentire la mia voce in zona quando il medico dice che è troppo è meglio lo vino che lo sciroppo quando il medico dice che è tanto è meglio lo vino che l'olio santo e quando il medico dice che va, va alla cantina, va alla figlia e non posso più cantare non c'ho la voce l'ho aperta ieri sera alla fornace l'ho aperta ieri sera alla fornace l'ho aperta sotto all'albero di noce